volevo dirvi che oggi uscirà un video bellissimo sul mio canale dal titolo bellissimo non c'è il video oggi sul mio canale ciao mi chiamo Andrea sono diabetico e cosa ho preso come merenda? un coso sugar free unicorni un coso sugar free raga sugar free taggo Giulio così vuoi ripostare ecco Giulio che si esibisce nella tecnica della palla di fuoco è molto semplice si parla così così ok? si così? si? così? si? così? si? così? si? così? perfetto ora la faccio io eh ecco Sofia Land che si esibisce nella tecnica della palla di fuoco vai perfetto vai wow dai brava vai brava l'uccellino è vivo o morto taggami eh quanto sono carina sono proprio carina ma ti sono spruite le rughe? ah ahahah mi hanno dedicato un palazzo è piaciuto troppo il mio libro premetto che ho già risolto con la ragazza in questione ma volevo chiedervi una cosa adesso vi metterò un messaggio che mi è arrivato oggi e al che non avevo una risposta da dare ho fortunatamente stavo registrando un video in quel momento quindi ora vi allegrò due stories e voi mi dite se ho sbagliato nei modi nel senso beh va davvero ho già risolto però voglio capire che cosa vedete voi ho sbagliato? ditemi è morbida è morbida è morbida possiamo prenderla una bambina prendila guarda che l'hai leggetta stiamo registrando adesso tocca a te prendila se ce l'hai in mano non ci pensate è la regola eh sì eh eh no posso fare un po' con te si stava facendo un video però scusa ciao Giulio beh ti sa che l'ha pronta per me alla fine ci sto è un canale con gli occhi lo sai? ciao eh sì eh eh ciao ricominciamo quindi ora la mia domanda è sono stata sgarbata? nel senso nel video rido anche poi quando vado a fare una foto però vabbè da fuori Andre risulto sgarbata mentre mi interrompo no rispondo così chi è che oggi ha fatto il cattivo cani non ha mangiato con il papà così la mamma è costretta a darti da mangiare adesso per farti l'insulina chi è questo? sei tu sei tu sei tu sei tu amore sei tu scusa Cero ti è arrivato un messaggio potresti farmelo ascoltare per favore? grazie sabriè scritto carota pane pannocchia pera mandarancio uovo fritto fragola mango limone faccina sorridente con occhi spalancati faccina sorridente con occhi normali anche normali eh peperoncino avocado c'è anche la gamba c'è gli occhi con goccia di sudore sono un genio ho caricato il video per domani non accorgendomi che non era ancora passata la mezzanotte perché assolutamente io li up dopo la mezzanotte così si è un pato però l'ho cancellato sono un genio per favore per favore non scrivetemi adesso tutti oh mio dio ho visto tutto il tuo video ed è bellissimo il video è stato online 3 minuti e ne dura 20 20 tra l'altro grazie youtube per aver fatto uscire il mio video con questa faccia meravigliosa è bellissima vabbè oggi abbiamo registrato un video ed è finito molto male ma secondo voi che può non so manco parlare da quanti problemi abbiamo aiuto 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 ma perchè perchè guarda come sono super leggiata lo so ma sono leggiata che cosa mi stai portando è un tipo che volevo regalare grazie siete voi ma che meraviglia me l'avevi regalato anche anni fa ti ricordi che ero venuta a prenderlo grazie grazie